Riguardo a questa qualità di oggi potevamo giocare meglio, abbiamo fatto tanti errori in difesa, anche in attacco mi sono riusciti a trovare molto gioco, cioè perché ognuno giocava quasi sempre da sola e comunque abbiamo sbagliato tante cose, il nostro allenatore comunque per i tanti mi si è arrabbiato perché comunque sapeva che ne potevamo fare di più, non ci abbiamo messo tanta voglia, perché secondo me siamo arrivati già con la motivazione di dire che potevamo vincerla la partita, quindi siamo arrivati senza molta motivazione. Riguardo ai play out dobbiamo vincere la partita perché secondo me, cioè io non vorrei tornare in a due, però per riguardo alla squadra non lo so.